Non ci vado! Non voglio stringermi! Li hai uccisi tutti! No! 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 Cos'è successo? Scusa! Dani Ehi, Dani Sta lontano da me! Ok Ok, ehi Scusa Sto bene Sei sicura? Non senti di stare bene Però nella sua testa Ho rivissuto i suoi ricordi C'è stata un'epidemia 75 anni fa Proprio come sta capitando alla brigione Hanno ucciso tutti Per contenerla Tutti quanti Non è una coincidenza C'è uno schermo La carica La carica La carica Non è una coincidenza Scusa No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.